Una grande festa! Circa 2000 persone sono salite a Pasquetta all'Alpe Devero per Snow Pool Party 2019, ottava edizione, organizzato dal gruppo Giovani Valle Antigorio e da Vivi Devero. Il clou, naturalmente il contest, che ha visto una quarantina di iscritti, tra questi una decina di carretti accanto agli sportivi su sci o tavola. Per tutti l'obiettivo era quello di evitare il tuffo, ma non tutti, lo vediamo, ce l'hanno fatta. Bagno fuori stagione per le hawaiane salite a Aldevero, per queste Baywatch in gommone e per tanti altri che hanno sfidato la piscina alpina, avvistata anche una barca incagliata. Naturalmente è libero sfogo alla fantasia per dare vita ai personaggi che hanno animato la giornata. I vincitori tra gli under 15 gradino più alto del podio per Saele, seguito da Cristian e da Cristiano. Nella categoria uomini ha vinto Cristian Zainetti, seguito da Tommaso Cri e Diego Rabaglia. Grande la soddisfazione del gruppo Giovani Valle Antigorio, è andata benissimo, abbiamo dato fondo a tutte le libagioni, dice Gianni Antonietti. Già perché accanto al contest sfrigolavano le salamelle e si spillavano pinte e pinte di birra, accompagnati da buona musica. Visto il gradimento raccolto, l'appuntamento sarà certamente riproposto anche il prossimo anno, complice un gruppo giovani cresciuto che ora conta bene 26 elementi e che quest'estate organizzerà nuovamente anche la festa delle bionde.